Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, a causa della regolazione del traffico dovuta alla neve sul tratto appenninico, ci sono 6 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Nord, tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti in direzione Bologna per traffico intenso e in direzione Roma per incidente. Sulla FIPILI per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Lastra, Signa e Montelupo, Fiorentino. In direzione Mare, 2 km di coda per incidente tra Empoli Est ed Empoli, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code in uscita a Scandici, Santa Croce e San Miniato. In direzione Firenze, per traffico intenso, code a tratti tra Lastra, Signa e Firenze e Scandici. In A11 per traffico intenso, code tra Pistoia e Il Bivio per la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Buon viaggio!